E' un ritiro, è un ritiro. Non sono stato eliminato, sono il fantasma di Michele, io non sapevo nulla. Ma che è successo? Quindi tu sei arrivato in studio e che è successo? Allora, sei arrivato in studio. Alfonso mi ha fatto subito la prima domanda, che esperienza è stata io? Un'esperienza molto forte, non credevo. Allora lui fa un attimo, freeze, mentre... Wanda si avvicina e tira fuori dal reggiseno, come aveva fatto la Marini, un coso così dove c'è scritto, non sei stato eliminato.